Oltre 190 milioni di ricchezza distribuita al territorio con 36 nuove assunzioni, il 93,3% dei 616 dipendenti a tempo indeterminato. Una performance ambientale tradotta nel 100% di energia prodotta da rinnovabili e in minore emissione di CO2 nell'ordine di quasi 18.000 tonnellate. Il sostegno per 1,2 milioni di euro a iniziative sociali, culturali e sportive. Sono questi alcuni numeri del bilancio di sostenibilità di Estra per il 2016, il gruppo industriale nel settore dell'energia tra i primi dieci in Italia, il maggiore dell'Italia centrale, che non perde di vista i suoi caratteri costitutivi e fondativi, pur rimarcando la sua dinamicità ed il suo approccio fortemente innovativo nelle azioni e nelle strategie. Questi 190 milioni sono composti da più voci. Ovviamente c'è la parte che va in dividendi verso i soci e quindi arrivano ai comuni, c'è la parte con cui finanziamo le attività culturali, sociali e sportive dei nostri territori, c'è il valore economico degli stipendi con cui paghiamo i nostri dipendenti e poi c'è il valore che ricade come indotto sui nostri territori.